Allora, oggi il concerto è un altro esempio di opportunità per me per imparare di più la lingua. Ah, questo è John Fahey, era musicista e chitarrista molto importante, ma non era famoso nei Stati Uniti. Questa canzone si chiama L'ultima locomotiva di Vapore. 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 L'ultima locomotiva. L'ultima locomotiva di Vapore.